eccoci qua amici siamo tornati siamo alessandro e giacomo le due facce nel panino oggi oggi incredibile regione esplosiva esplosiva qua c'è il pericolo di incendio ragazzi la calabria ragazzi ma che regione favolosa ricca di un sacco di cose bellissime cioè pensato 200 km di costa i mari più belli del mondo ma poi non solo i mari perché ci sono dei parchi naturali spettacolari la sila, l'astromonte poi come i bronzi di riasce una storia incredibile ha avuto tante influenze dagli spagnoli dai felici perché insomma siamo poi la punta dello stivale tirreno, ionio insomma in mezzo proprio al Mediterraneo ragazzi un sacco di influenze anche nel cibo nel cibo esatto fatti bene, parleremo anche un po' di storia di tutt'arte ma diciamo gli ingredienti intanto di oggi andiamo ad illustrare allora innanzitutto ovviamente non poteva mancare la cibola di tropea amici cioè i GP da pochi anni ma uno dei frutti più belli è andato a questa regione cioè fa benissimo antiossidanti non è troppo piccante è un bel colore rosso vivo tendente al violace ma poi abbiamo tantissimi altri prodotti come non citare la regina di questo piano l'anduia di spilinga questa ve lo diciamo non viene la spilinga perché l'ho fatta io e le mie mani vero già e presto vi darò anche la ricetta la ricetta però a me piace mangiare piccanti piace l'anduia ragazzi poi un'altra cosa spettacolare è il peperoncino ragazzi il peperoncino però per Giorgio tutte le ricette praticamente c'è c'è ma anche lì te un infusino di peperoncino poi glielo dico subito ai nostri amici te pensa e questi peperoncini sono coltivati da me perché io ho la passione per il peperoncino ma anche di peperoncino e questi peperoncini i semi me li ha dati Domenico che saluto tantissimo era un mio compagno di stanza quando andavo all'università e sai cosa mi disse quando mi dette i semi di questo peperoncino mi disse questi sono l'orgoglio di mio nonno quindi già qui ti fanno aprire quanto pizziano oggi proprio cedivolo dicendo da inchinazzi prima di cucinare e poi il formaggio caciocavallo silano dop però oggi facciamo un panino che non è un panino l'avete letto ormai dal titolo è un burrito un burrito perché abbiamo due ricette tipicissime della Calabria uno sono le patate impacchiuse scusatemi se lo pronuncio magari male perché sinceramente insomma non è che abbia aspettato anche la pronuncia che è un piatto che vi farò vedere come ma poi lo serviamo in una chiama anche ambera si chiama cioè è una sorta di frittata con la sua farina e la cipolla li troverà dentro quindi io direi banda le ciance andrei a comporre il panino andiamo allora io partirei direttamente dalla ricetta principe diciamo perché alla fine sarà parte della versione sia vegana che quella no le patate impacchiuse allora amici ora mi dispiace se magari lo pronuncio male ricetta spettacolare mi ha fatto conoscere una amica e che ringrazio semplicemente molto semplice ma di grande successo perché impacchiuse? impacchiuse perché una volta pote restano tutte attaccate l'uno con l'altro creano un collante tra di sé l'amido della patata lo fa in padella filo d'olio aglio tolto l'aglio andiamo con le patate tagliate a fettine sottili sottili e arrangiamole tutto intorno alla parte della superficie della padella perché? perché le patate non le devo cuocere solo sotto coperte con il coperchio e andiamo ad aggiungere la cipolla e i fughi solo una volta che sono girate sale e pepe e un mix di spezie che che nel delizio del marchesato ci ha giocatamente offerto esatto appena cotto vedrete questo effetto che rimaneranno tutti compatte insieme ed è una cosa spettacolare andiamo poi al nostro pane tra virgolette o cioè la nostra base dei due burritos ovvero questa è una ricetta di recupero una ricetta povera diciamo della regione come tutte hanno una volta quando le cipolle avanzavano non si buttava bene niente si tagliavano a pezzettini molto fini e poi andavano in un mix di acqua e farina in parte uguale un po' di sale un po' di pepe e una volta mescolato bene bene in padella da crepe veniva fuori tipo una sorta di fialina quindi la fate cuocere finché appunto non vedete che è sotto è cotta la girate e basta ecco quella è la nostra anchiampera si chiama la girate e anche questa sarà appunto la base di entrambi i tipologi di burrito i peperoncini i peperoncini amici abbiamo fritti d'altronde andava fritto qualcosa oh il peperoncino fritto semplicemente tagliato del picciolo tagliato a mezzato alti semi perché sono quelli un po' più piccanti e la solita pastella ormai la conoscete meglio di noi birra farina un pizzino di sale e pepe ecco pronto affatto mi raccomando ghiaccia la birra mi raccomando lasciatevela anche per voi perché mi fanno già male al deum ecco esatto e questi ecco saranno una volta impastellati fritti nell'olio a bollore come tutte le fritture tolte e messe da parte io mi vergogno di dire una cosa quindi la dirai te la dico io? si prendo l'onore certo anzi faccio un passo indietro perché io non centro niente in questa cosa e io le faccio un nuovo avanti è conquistata una mattonella è conquistata per noi indietro cosa abbiamo fatto sentiamo abbiamo fatto delle listelle di duia fritta ragazzi fantastico io non ce l'ho eh lui si vergogna io no perché ragazzi veramente l'anduia è per la sua caratteristica di avere un'alta concentrazione di grassi per far sì che rimanga spalmabile impastellata è fritta quindi dentro il calore che si scioglie tutto questo grassino ha un sapore ha un gusto incredibile ragazzi io andrò di cistero se mi vedo l'analisi di sangue o il colesterolo con papa 2000 si così poi posso andare a saltare le staccionate ok invece dell'anduia che poi sarà base ovviamente della preparazione non vegana per la preparazione vegana abbiamo fatto semplicemente un sugo con i pomodori pelati o se ce l'avete freschi meglio ancora insomma e con il solito preparato le solite spezie di prima abbiamo dato un po' di piccatezza perché anche lì poi ci vuole visto l'anduia manca e abbiamo tirato su questo sughetto semplicemente pochi minuti come tutti i sughetti al pomodoro insomma andiamo quindi a comporre questi due burlini assolutamente perché non vedo l'ora di prendere fuoco allora amici partiamo intanto dalla versione normale tra virgolette prendiamo la nostra anche ambera che ne abbiamo fatti in quantità industriali come vedete resta molto morbida quindi si presta poi all'utilizzo di questa ricetta assolutamente come base andiamo con la nostra anduia del nostro amico la nostra anduia poi vi daremo la ricetta la sapete sai diciamo perché la cosa deriva anduia no praticamente l'anduia deriva da un piatto simile francese si chiama anduille quindi diciamo e l'abbiamo importato da lì e deriva deriva dal latino inductilia cioè pronto per essere insaccato non a caso questo è un insaccato anche questo non l'abbiamo detto prima ma non so se lo sai deriva dalla cucina povera cioè tutti gli quando si lavorava al maiale tutti gli scarti venivano chiusi assieme al peperoncino che ha un alto potere antisettilo e quindi ah conservava conservava direttamente e quindi veniva insaccato un salume stagionato da poter mangiare insomma quando si vuole cioè anche anni come no poi nella come abbiamo detto prima le patate in pacchi segreti dove restano tutte appiccinate appunto e tutte insieme questa sarà la sia della versione normale che in quella che venga la che prepariamo tra pochissimo io poi andiamo ad aggiare sopra queste che non so come chiamarle guardate là ti ce ne metto una poi e sopra io andrei a mettere questi bianchetti i bianchetti detto anche pesce ghiaccio che ci hanno sempre dato le delizie del marchesato sono stati gentilissimi è vero grazie ancora che bellezza sono che poi li fanno anche piccanti questi si si noi abbiamo preso la versione basta basta con peperoncino tanto direi e poi oh il cacio a vallo si l'hanno dopo esatto che bellezza buonissimo profumissimo perché non cacio a vallo cacio a vallo perché Giano quando viene legato per essere appeso per la stagionatura praticamente sembra che sia una testa di cavallo con le briglie e da qui cacio a vallo ma pensa un po' ma pensa un po' che si scopre a questo punto c'è da fare l'operazione più bella del mondo cioè c'è da chi vedo che scopri e come si fa si chiudono le parti laterali ora da qui si vede meglio che vanno a sigillare tutto poi con decisione ma con delicatezza andiamo ad arrotolare tutto e con l'ausilio di uno stecchino andiamo a sigillare proprio il nostro burrito che mettiamo qua questa è la versione per me bravo quell'altra te la mangi te quindi ripartiamo la nostra anche ambra bella morbida ancora umida la base a questo punto di pomodoro abbiamo visto prima il nostro pomodorino bello piccante che sarà come base da mettere il peperoncino ovunque amici peperoncino ovunque i nostri amici non lo sentono ma già al profumo si sente all'odore già a me inizia come abbiamo detto prima le nostre patate impacchiuse che sono diciamo il principe della delle nostre ricette perché sta sia di là che di qua quindi ne mettiamo tutte le nostre funghi ma questo lo mangi te attenzione ragazzi oggi mangeremo il panino insieme perché dice ogni tanto mangio anch'io un sembra un sembra un sembra un sembra ma ogni tanto mangio anch'io andiamo a mettere i nostri peperoncini ma lo sai Gianlu bellissimi ma lo sai Gianlu il peperoncino si l'ha importato nel nostro vecchio mondo Cristoforo Roma nel suo secondo viaggio nel 1493 nelle Americhe quelle che lui aveva scoperto con il primo viaggio praticamente tanto più andò lo più da lo più intanto spiegano i nostri amici e lui insieme agli spagnoli pensavano di fare un business su questa spezia nuova perché era sconosciuta da noi però diciamo l'hanno preso in tasca perché il peperoncino basta mettere un seme in qualsiasi vaso tac e la immagina soprattutto sul nostro sud sul nostro sud e quindi insomma diciamo nel nord Europa non è stato appezzato non è in Calabria diciamo in sud tantissimo e quindi possiamo dire che allora non solo l'euro è stata una moneta poco azzeccata anche il peperoncino in questo caso eh sì diciamo proprio di sì comunque se abbiamo il peperoncino se l'abbiamo il peperoncino dobbiamo ringraziare Cristoforo e infatti Vitto nel discorso della scelta di fare una sorta di burrito per legare per legare con sembra fatta a posta sembra fatta a posta sembra fatta con il messio ragazzi che anche lì mangiano super piccante e quindi il burrito alla presa e che ci abbiniamo e che ci abbiniamo ci abbiniamo ragazzi oggi una birra fantastica questa davvero ragazzi veramente una birra in edizione speciale limitata del birrificio Cunegonda ragazzi attenzione una birra anch'essa al peperoncino oggi davvero ci viene con la lotta a ve lo dico esattamente a Santonofrio Spilinga Vibo Valencia quindi da dove viene anche l'anduia ma che studio c'è dietro a questo ricerchio ma che spettacolo ragazzi grazie tra l'altro Pasquale che ci ha mandato una cassa di queste birre fabolose grandissimo Pasquale ti salutiamo e ti ringraziamo perché è una birra davvero buonissima ma poi artigiani come poi ci sono gente che veramente salda in territorio ricerca la passione grazie incredibile veramente una birre de garde della famiglia delle Erile fa 7 gradi 7 gradi ambrata e quindi a questo punto visto che fa caldo andiamo fa caldo fa caldo oddio si guardate qua proprio ambrata proprio un colore guardate là che bella schiumetta fatto la bollicina che buono profumo esagerato quindi ragazzi non ci resta che prendere fuoco oggi anche la birra c'è al peperoncino esatto e dai due facce del panino alla prossima puntata alla prossima regione o chissà cosa chissà cosa attenti diciamo niente da Alessandro Giamo le due facce del panino alla prossima alla salute alla salute c'è il perrucino è buonissimo mi ha un paura per l'inizio che va di bella po' di più invece no però è della alternatissima molto molto bravi ragazzi beneficio un econda on the top 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 eccoci qua amici ragazzi oggi non sono solo a mangiare il panino ebbene sì finalmente anche Giamomino ci dà dimostrazione che mangia qualcosa in un solo tema e cominciare a fare te lo devo eh verai anch'io perché insomma da un po' a far cucinare prendiamoci le vostre due versioni oh che bellezza che bellezza allora si va con l'affettaggio in sync guarda siamo sincronizzati che spettacolo guardate Gazzava mamma mia guardate qua ve lo faccio vedere anche da più vicino perché guardate che bellezza ma il mio è più bello eh no è più bello il mio no è il mio il mio allora si dice che è più buono anche oh vai allora allora buon appetito buon appetito però prima salsino assolutamente alla salute ah cin cin prendendo spunto da inductia pronto per essere insaccato anche lui me lo insacco dentro perché ci sta bene ci sta buon appetito buon appetito buon appetito dici 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 tanto c'è il pecaruncino dentro no fuoco per fuoco eh tu pensi di spengono invece mamma mia però spettacolare mamma mia il fritto poi ci sta da dio l'anduia l'anduia fritta è qualcosa di incredibile ma guardate qua guardate qua l'anduia fritta è bellezza mamma mia oddio sponsorizzata dall'associazione i medici cardiologi allora Giammo io fossi in te fossi in me fossi in te metterei un bel fade qui per far sfumare questo finale io un tanto ringrazierai tutti gli amici si ringraziamoli perché sono tantissimi ci stanno iniziando a seguire il progetto viene bene noi siamo super felici entusiasti a 2000 quindi mi raccomando continuate su youtube a seguirci e iscrivetevi soprattutto al canale poi facebook mi raccomando la pagina condividete i video dateci qualche vostro consiglio una ricetta particolare qualche ingrediente da scoprire il panino che voi vorreste che le due facce del panino mettessero sul canale con tanto di citazione perché no quindi scriveteci ringraziatevi scriveteci alle due facce del panino di oggi o da gmail.com e alla salute vostra e grazie a tutti siete tanti e belli soprattutto e mandateci anche qualche foto o qualche gadget come questo quadracquale è una figata pazzesca bellissima la salutiamo ciao ragazzi alla prossima regione da Alessandro Giavono le due facce del panino ciao ragazzi ciao insomma ottici garba sto felide se lavora comunque meglio da dire sì no ma mettici vai vai ciao